Non temere, ritornerà. Torniamo a casa, caro. Sto in pensiero per i bambini. Credi che la figlia di Poli li avrà portati nel rifugio? Ma certo, sta tranquilla. Sembra che combattano sopra di noi. Vorrei andare a casa. Senza fermarmi. Non sarà possibile. 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 Che cosa orribile. Erano pallotto. Carol, sono sicura che ci hanno colpito la macchina. Oh, Carol. Oh, Carol. Il villaggio. Oh. Noi dobbiamo andare, avranno bisogno di aiuto. Carol. 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 Carol.